Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso di cui, ammetto, rimando la discussione da tanto tempo perché mi fa male al cuore constatare che sono tanti i casi di omicidi di donne per mano di uomini a loro vicini. Oggi parliamo di Vanessa Zappalà e del suo assassino, Antonino Sciuto. Anche se inizio a pensare che Vanessa e tutte le altre donne uccise dai fidanzati siano vittime dello Stato. Vanessa, prima che il suo compagno l'ammazzasse, lo aveva denunciato per stalking. La verità però è che le leggi da sole non riescono a fermare questa violenza e quindi, a mio avviso, bisognerebbe partire dalla scuola. I ragazzi devono ricevere certi insegnamenti fin da piccolini perché non è giusto che le donne debbano temerli. Sono gli uomini che devono ricevere un'educazione adeguata sia a scuola sia in famiglia. Vanessa Zappalà di 26 anni è originaria di Trecastagni, un comune della città di Catania in Sicilia. Il paese sorge alle pendici dell'Etna ed è uno dei comuni che si trova alla quota più elevata. Vanessa è fidanzata con Antonino Sciuto di 39 anni, un venditore di automobili che abita a San Giovanni la Punta, distante circa 5 chilometri da Trecastagni. Antonino Sciuto, detto anche Tony, ha due figli dal primo matrimonio, uno di 10 anni e uno di 5 anni. Vanessa li conosce e le piace molto stare con loro. Tempo dopo, nel 2020, i due vanno a convivere in una casa di proprietà della famiglia di Vanessa. Antonino viene accolto dal papà di Vanessa, Carmine. Inizialmente la convivenza va bene, ma poi le litigate diventano frequenti. Antonino è sempre più geloso di Vanessa, fino a esibire un'ingombrante possessività. Tanto che, quando Vanessa avanza l'ipotesi di uscire o cerca di opporsi al controllo opprimente di Antonino, lui le mette le mani addosso. La ragazza è costretta a indossare dei foulard o a truccarsi molto per coprire i lividi. Non vuole far sapere al mondo esterno quanto sia problematica la sua relazione, che era partita con tutte le buone intenzioni. Ma col tempo, litigata dopo litigata, livido dopo livido, l'incompatibilità caratteriale dei due emerge lampante e Vanessa decide di lasciare Antonino nel febbraio del 2021. La ragazza gli dice che la loro relazione non può continuare perché si sente in gabbia, le viene impedito di fare tutto. Quindi chiede al compagno di lasciare la casa di suo padre Carmine. Ebbene, quando Antonino viene messo alla porta da Vanessa, esplode di rabbia e le distrugge casa, rompe i mobili e lancia cose addosso e Vanessa si ritrova ancora una volta piena di lividi. Quella sera Antonino le fa davvero tanto male. Vanessa chiama il suo papà in lacrime dicendogli «Vieni qui, ti prego, mi ha massacrata». Il padre di Vanessa, Carmine, raggiunge alla svelta la casa in cui sua figlia convive con Antonino e insieme riescono a cacciarlo perché Antonino, dopo aver distrutto di tutto, non accetta neanche di andarsene. Ovviamente, prima di mandarlo via, il padre di Vanessa si assicura di recuperare le chiavi della casa e cambia anche la serratura della porta principale. Il problema è che non viene cambiata la serratura della porta del condominio. Siamo a febbraio del 2021. Cosa succede quindi? Antonino aveva fatto un duplicato della chiave che apre la porta del condominio. Così entra nel palazzo, si infila nel sottotetto fino ad arrivare all'appartamento di Vanessa e si mette ad origliare tutte le conversazioni che hanno luogo in casa della ragazza. Ora, ho analizzato tanti casi di questo tipo, ma mai ho appreso di un tizio così ossessionato dalla sua ex? Mai. Antonino è convinto che Vanessa in realtà l'abbia lasciato per un altro, quindi la sua vera ossessione è scoprire se effettivamente la ragazza stia frequentando qualcuno. Come se non bastasse, Antonino fa spesso gli appostamenti, si ferma sotto casa di Vanessa per controllare se esca e cosa faccia, oppure si mette dall'altro lato della strada e per ore fissa la finestra di casa sua con aria minacciosa. Oppure, ancora peggio, si mette davanti alla finestra della cucina durante gli orari dei pasti e scruta Vanessa o la sua famiglia mentre pranzano o cenano. La pedina anche. Si tiene sempre a una certa distanza, ma Vanessa è perennemente controllata. A questo punto la ragazza chiude tutte le tapparelle e rimane barricata in casa, quando possibile, perché è parecchio spaventata. Quando esce e Antonino riesce a abbraccarla, probabilmente la picchia, perché Vanessa di tanto in tanto continua a nascondere i libidi. Vanessa lavora in una panetteria a Trecastagni e ritorna a casa non appena finito il turno. Questa è l'unica uscita obbligata perché la ragazza è a dir poco terrorizzata. È ovvio che questo per Vanessa sia motivo di uno stress psicologico incredibile. Costretta a modificare la propria vita per colpa di una persona che la perseguita. Sta chiaramente subendo un reato di stalking. Tra l'altro queste situazioni si manifestano tutte in pubblico, in mezzo alla strada, perché Antonino in casa di Vanessa non può più mettere piede. A questo punto, vista la situazione insopportabile, il padre di Vanessa va a parlare col padre di Antonino per chiedergli di far ragionare suo figlio, il quale sta rendendo la vita impossibile sia a Vanessa che alla sua famiglia. Carmine inoltre dice chiaramente alla famiglia di Antonino che se avesse continuato con queste molestie l'avrebbero denunciato. Nei fatti, ahimè, non cambia nulla. Antonino non è un ragazzino. Ha 40 anni e la sua mentalità scorretta è radicata. Lui neanche pensa di essere nel torto, sta solo tenendo d'occhio la ragazza che ama, secondo lui. Invece, secondo me, sta opprimendo la ragazza di cui è ossessionato e la cosa cambia profondamente. A dirla tutta, Antonino è ossessionato dal fatto che Vanessa possa trovare un altro ragazzo con cui stare. In realtà, lui pare che neanche ci voglia tornare con Vanessa, ma vuole assicurarsi che non stia con nessun altro. Insomma, la classica frase, o con me o con nessuno, direi che è calzante per questo caso. Antonino continua anche a intrufolarsi nel sottotetto per ascoltare le conversazioni di Vanessa e, dopo un po', viene beccato sia dal padre di Vanessa che da altri condomini che, giustamente, si arrabbiano tantissimo. Antonino, quando viene sorpreso a origliare, riesce a dire al padre di Vanessa solo queste parole. Mi hanno detto che sta con un altro. Il padre, con sincerità, gli risponde «Ok, te lo dico io, lei non sta con nessun altro, ma tu non sei più il suo fidanzato». Di tutta risposta, Antonino avrebbe detto «Sua figlia è una menomata» per poi andarsene come se nulla fosse accaduto. Il padre di Vanessa sta dicendo la verità, la ragazza non sta con nessun altro, anche perché è complicato gestire un ex che ti perseguita e coltivare nello stesso momento una nuova relazione. Antonino non capisce minimamente che Vanessa non l'ha lasciato per andare a divertirsi con altri ragazzi, ma perché era un fidanzato geloso e violento, le metteva le mani addosso, le faceva del male. Ma lui non identifica queste azioni come problematiche e mi chiedo come sia possibile. È una distorsione culturale? Perché questi uomini non vengono educati a rispettare le donne? Perché il problema, a mio avviso e specialmente in questo caso, risiede proprio nell'educazione. Antonino, di certo, non ha assunto comportamenti ossessivi soltanto con Vanessa. Questo, senza dubbio, è un modus operandi che ha sempre fatto parte di lui. Quando viene beccato nel sottotetto dai condomini e dal padre di Vanessa, Antonino se ne va. E in effetti sparisce per un paio di settimane. Quindi Vanessa e suo padre sono convinti che finalmente il problema sia risolto. Antonino avrà capito che deve smetterla di perseguitare la ragazza. E invece Antonino sparisce per due settimane perché deve ideare un altro piano per continuare a perseguitare Vanessa. Arriviamo a giugno del 2021. Dato che Antonino non può più infilarsi nel sottotetto per spiare le conversazioni di Vanessa, decide di piazzare dei GPS sia sotto la macchina della sua ex sia sotto l'auto di suo padre Carmine. Ripeto. Ho trattato tanti casi simili ma non ho mai riscontrato una cosa del genere in precedenza. Vorrei pure capire perché Antonino ha posizionato un GPS anche sotto la macchina di Carmine. Forse per tentare di capire quanto e quando è vicino alla figlia. Insomma, se si accerta che Vanessa è da sola sa che può tornare all'attacco. In ogni caso è chiaro che Antonino sia ossessionato dal controllo che deve esercitare. A questo punto non solo su Vanessa. Antonino come prevedibile si piazzava anche davanti al luogo di lavoro di Vanessa. L'uomo quindi spesso e volentieri entra nel panificio si mette in un angolo e la osserva. Se ci fate caso Antonino si limita a lanciare queste occhiate di minaccia velate che Vanessa riesce a percepire altrimenti non sarebbe così terrorizzata. Ecco perché quando ho visto delle trasmissioni riguardo a questo caso e ho sentito affermare che Vanessa sottovalutasse il suo ex mi sono davvero stupita. Questa dinamica a mio avviso non è veritiera in quanto Vanessa aveva paura di Antonino anche perché lui passa una minaccia ancora più grave ossia dice se ti becco con un altro io ti sparo quindi no. Non credo che Vanessa sottovalutasse l'ossessione e le minacce di Antonino. Piuttosto quando le sue amiche le dicono di fare attenzione perché Antonino è pericoloso lei cerca di tranquillizzarle rispondendo che è solo molto geloso. Credo che Vanessa dica questo alle amiche per non farle preoccupare anche per la loro incolumità. Poi è possibile che sia emersa anche la vergogna della vittima. Secondo me Vanessa è a disagio perché ciò che le sta facendo Antonino si sta riflettendo anche sulle persone che le vogliono bene e che le stanno intorno. Lei non sottovaluta nulla ma si vergogna perché quella relazione l'aveva incoraggiata anche lei con questo uomo ci era andata a convivere. Vanessa a questo punto riporta su un diario tutti gli appostamenti di Antonino perché vorrebbe andare a sporgere denuncia. Vanessa scrive E poi arriva il 7 giugno Il 7 giugno Vanessa scrive ore 15 e 58 ore 17 e 15 ore 17 e 26 ore 18 e 47 ore 18 e 50 Il 7 giugno Antonino inizia a suonare insistentemente al campanello di casa sua sbraita le urla degli insulti se ne va poi pochi minuti dopo ritorna Vanessa decide allora di sporgere denuncia chiama direttamente i carabinieri verso le 18 e 50 quando arrivano i carabinieri sul posto effettivamente trovano Antonino sotto casa di Vanessa che sta urlando per farsi aprire e continua a suonare il campanello quindi lo colgono in flagranza di reato peraltro i carabinieri erano già a conoscenza della situazione il padre di Vanessa spiega che sono sempre stati molto gentili con Vanessa accolgono la denuncia per stalking e fanno tutto il possibile per fermare Antonino cioè lo mettono immediatamente in manette oltretutto il maresciallo dà il suo numero personale a Vanessa dicendole che può chiamarlo quando vuole se si fosse sentita in pericolo lui sarebbe corso subito da lei per aiutarla a questo punto Vanessa suo padre e gli inquirenti scoprono anche GPS che Antonino aveva posizionato sotto la macchina di Vanessa e sotto quella di Carmine Antonino a questo punto passa un paio di giorni dietro le sbarre fino a quando il PM della procura di Catania chiede che gli siano dati gli arresti domiciliari per stalking purtroppo Antonino vive a pochi minuti di macchina da Vanessa quindi non credo che questa mossa degli arresti domiciliari sia stata una scelta saggia ma la questione qui si fa ancora più problematica perché il GIP pensa addirittura che non ci siano degli estremi per dargli i domiciliari quindi Antonino Asciuto si ritrova soltanto con un divieto di avvicinamento di 200 metri da Vanessa di certo se non c'è nessuna forza dell'ordine che lo controlla Antonino può fare quel cavolo che gli pare infatti il 13 giugno Antonino rincomincia a perseguitare Vanessa le ripete la minaccia che già le aveva fatto in precedenza ovvero ti prendo a colpi di pistola se scopro che hai un altro queste inoltre non erano minacce a vuoto volte solo a far spaventare Vanessa in quanto Antonino nel cassetto del cruscotto della macchina aveva ben 28 proiettili poi Antonino sparisce siamo a metà giugno e finalmente Vanessa inizia a rilassarsi tira un sospiro di sollievo sia lei che suo padre pensano che questa situazione sia finalmente giunta al termine purtroppo non è vero Antonino si allontana perché si spaventa per l'ordinanza restrittiva qualche giorno in carcere se l'è fatto e non è che gli sia piaciuto così tanto ma continua a tenere d'occhio Vanessa anche se a distanza Vanessa sebbene si rilassi continua a essere spaventata da Antonino esce pochissimo fa la spesa online si reca soltanto al lavoro fino a quando non arriva Ferragosto sono passati ormai due mesi da quando Antonino pare essersi rassegnato quindi Vanessa inizia a pensare di poter uscire di tanto in tanto per riprendere lentamente in mano la sua vita da Ferragosto quindi comincia a uscire un pochino di più il 23 agosto del 2021 Vanessa è ad Acitrezza una frazione di Acicastello della città di Catania Vanessa quella notte fa serata con i suoi amici è un po' più serena e sta passeggiando sul lungomare di Acitrezza poi a un certo punto vede a bordo di una 500 proprio Antonino asciuto l'uomo si ferma con la macchina e la chiama le dice che ci sono dei punti che devono chiarire per la fine della loro relazione in quel momento Vanessa si sente al sicuro perché è in una zona il quanto affollata è con i suoi amici quindi si avvicina al finestrino della macchina di Antonino i due parlano per un po' ma apparentemente questa è una discussione tranquilla intanto i suoi amici si sono fermati lì vicino e stanno tenendo d'occhio la situazione e ahimè questi amici vedono chiaramente Antonino che prende per i capelli Vanessa estrae la pistola e le spara sette volte uno dei proiettili la ferisce alla testa e Vanessa muore sul colpo un altro proiettile inoltre riesce a raggiungere anche un'amica di Vanessa che viene colpita di striscio a una spalla che io sappia questi ragazzi non hanno mai rilasciato interviste probabilmente per lo shock subito ma anche per il senso di colpa gli amici di Vanessa sapevano che Antonino era pericoloso quindi non voglio immaginare quante volte abbiano pensato che avrebbero potuto salvare la loro amica subito dopo aver colpito Vanessa Antonino la lascia a terra e scappa via a bordo della 500 gli amici nel frattempo chiamano sia i soccorsi che i carabinieri e in qualità di testimoni oculari dicono immediatamente che l'assassino è l'ex di Vanessa ossia Antonino Sciuto così le forze dell'ordine iniziano a cercare Antonino che quindi diventa un latitante a questo punto i giornali pubblicano le foto di Antonino Sciuto informando la popolazione che in caso di avvistamento bisogna immediatamente segnalarlo alle autorità competenti arrivano le 16 sono passate 13 ore dal brutale omicidio di Vanessa quando viene individuata la macchina di Antonino Sciuto parcheggiata in Contrada Trigona da Acitrezza a Contrada Trigona ci sono 13 chilometri abbondanti quindi mi chiedo dove diamine abbiano cercato perché per quelle 13 ore Antonino Sciuto è davvero considerato un latitante ma non è che fosse fuggito chissà dove nell'edificio dove si è tolto la vita lascia una scritta su una parete vi voglio bene rivolta ai genitori e ai propri figli Antonino è all'interno di un casolare nella campagna di Tre Castagni si è impiccato con una corda il 27 agosto 2021 si tengono i funerali di Vanessa Zappalà una grande folla interviene quella sera per l'ultimo saluto a Vanessa i funerali vengono celebrati a Tre Castagni all'aperto sul sagrato del santuario dei santi martiri Alfio Filadelfo e Cirino nel paese eteneo la bara bianca di Vanessa con sopra una corona di margherite gialle e boccioli di rosa bianche giunge intorno alle 19 accolta dagli applausi del paese il rito funebre viene ufficiato dal vicario della diocesi di Catania Monsignor Salvatore Genchi la funzione viene anticipata da un intervento del parroco della chiesa che dice saremo voluti essere altrove e non in questa piazza dare l'estremo saluto a Vanessa avremmo voluto continuare a vederla sorridere ma la realtà ci ha portato qui visibilmente commosso ai funerali è presente anche il maresciallo dei carabinieri comandante della stazione di Tre Castagni che aveva preso a cuore il caso di Vanessa nell'omelia al vicario della diocesi di Acireale Monsignor Salvatore Genchi ricorda il gesto di violenza non ha prodotto amore ma morte che non appartiene a ciascuno di noi la vita è un dono di Dio la parola di Dio ci aiuta a vivere e a continuare a credere nell'amore ci uniamo al pianto dei genitori siamo custodi della vita degli altri l'amore non è desiderio di possesso parla alla cerimonia funebre anche il sindaco di Tre Castagni e dice quello di Vanessa non è un delitto d'amore l'amore è altro questo omicidio lascia un segno indelebile nella nostra comunità Vanessa non ti dimenticheremo mai al termine dei funerali il ferietro bianco a spalla viene portato via tra gli applausi del sagrato del santuario mentre in cielo volano palloncini bianchi e rossi i vicini di Vanessa considerano il delitto fin da subito come una tragedia annunciata visto che anche loro dicono chiaramente che Antonino la aspettava per ore davanti a casa e la insultava mentre i carabinieri del comando provinciale di Catania proseguono le indagini per trovare l'arma del delitto ossia una pistola e per capire come Antonino ne sia entrato in possesso gli amici di Vanessa ancora non si danno pace maledetto hai tolto la vita una ragazzina scrive una ragazza sui social sono sconvolta ogni mattina mi accoglieva col suo sorriso e la sua gentilezza al panificio racconta una signora che conosceva Vanessa non si può morire così bastardo devi fare la sua fine scrivono in molti la rabbia maggiore perché ci sono state diverse denunce se non sbaglio e questo stato di M continua a non proteggere si legge in un altro commento era convinto di essere un padre padrone commenta invece il padre della vittima Carmelo Zappalà che ricostruisce la dinamica dell'omicidio lei ha cercato di scappare lui l'ha presa per i capelli e le ha sparato poi si scaglia contro il divieto di avvicinamento misura risultata inefficiente a salvare la vita alla propria figlia con le leggi giuste denuncia si sarebbe potuto evitare l'omicidio di mia figlia ma anche quelli che ci sono stati e quelli che verranno dopo perché ancora ce ne saranno e c'è chi scrivendo sul profilo social di Vanessa si interroga allora a che serve denunciare sono onesta anche io mi faccio spesso queste domande e molte di voi nei commenti dei video mi scrivono ma perché questa ragazza non si è difesa perché subiva e basta allora se si è in una relazione violenta e sto facendo un discorso più in generale o si sottosta alla situazione mentre si cerca una via d'uscita oppure si fa come Vanessa e abbiamo visto che fine ha fatto Vanessa nonostante fosse supportata dalle forze dell'ordine perché è un maresciallo difficilmente dal suo numero di cellulare personale dicendosi disponibile sempre almeno io non ne ho mai sentito parlare non aumentare il minimo della pena a due anni per il reato di stalking è un limite enorme perché ci impedisce di effettuare il fermo nei casi in cui non c'è flagranza dichiara la Sicilia Marisa Scavo procuratrice aggiunta a Catania che si occupa da vent'anni di reati contro le donne e io sono d'accordo con lei ma questo come abbiamo ben visto è un caso diverso Vanessa una storia con Antonino vanno a convivere ma quando le cose si mettono male la ragazza si impone cerca di cacciarlo di casa insomma qui non abbiamo una persona totalmente succube Vanessa ha provato fin da subito a liberarsi di quella relazione violenta e tossica ma purtroppo a volte non basta lasciare qualcuno e non basta neanche un arresto per di più Antonino Asciuto aveva due figli da una precedente relazione e il fatto che abbia deciso di uccidere Vanessa per poi suicidarsi mi fa ancora più orrore la sua ossessione è prevalse in una maniera preoccupante pare gli abbia totalmente ottenebrato la mente per lui c'era solo Vanessa che non doveva stare con un altro uomo nient'altro vorrei ricordare di nuovo che lui aveva 39 anni insomma era un uomo non un ragazzino credo che il padre di Vanessa abbia ragione quando critica le scelte del GIP se Antonio fosse stato agli arresti domiciliari o ancora meglio direttamente in carcere per qualche annetto probabilmente questo omicidio non avrebbe avuto luogo forse Vanessa avrebbe avuto l'opportunità e il tempo per allontanarsi dalla Sicilia anche se ha mal in cuore è questo che mi preoccupa è questo che mi infastidisce perché questa ragazza era coinvolta in una relazione più che tossica Antonino non le urlava parole d'amore non le diceva che lei gli stava spezzando il cuore anzi comunicando in modo ossessivo Antonino voleva che Vanessa non avesse più l'opportunità di vivere di uscire di avere amici che frequentasse un ragazzo dopo di lui è questo che a me spaventa l'amica di Vanessa Roberta su Facebook in un post scrive tante volte ti inviavo messaggi stai attenta Vane ho paura e tu rispondevi tranquilla non mi fa niente è solo geloso l'amica di Vanessa sua vicina di casa racconta di quanto la ragazza vivesse nel terrore ti avvisavo ogni sera stai attenta che sia posta sotto casa nostra e adesso come farò ogni sera ad affacciarmi senza chiederti Vane che fai e tu niente fumiamoci una sigaretta sul balcone principessa del mio cuore ogni volta che entrerò nel panificio non ti vedrò stamattina il mio pianto le mie urla con mia mamma abbiamo capito tutto senza sapere ancora la notizia come vedete Vanessa con la sua vicina di casa minimizzava il problema ma non con se stessa Roberta le diceva di stare attenta perché Antonino si appostava sotto casa loro quindi Vanessa presumo cercasse di tranquillizzarla ma lei di certo tranquilla non era affatto tra l'altro il papà di Vanessa è stato il primo che dopo il delitto ha rilasciato tante interviste ad esempio questa è del Corriere della Sera gli chiedono seguiva e spiava sua figlia Vanessa Carmine risponde quando dopo botte parolacce mia figlia l'ha mollato quando io gli ho tolto le chiavi di casa ha cominciato ad appostarsi per ore sotto le finestre o davanti al panificio dove Vanessa lavorava altra domanda per questo lo avete denunciato Carmine risponde dopo la frattura di dicembre quindi evidentemente Vanessa non aveva solamente dei lividi era successo qualcosa di più grave comunque dopo un inverno passato da Vanessa prigioniera in casa per paura di incontrarlo dopo mille minacce abbiamo dovuto mettere nero su bianco perché abbiamo scoperto che con un duplicato delle chiavi la sera si intruffolava nel sottotetto di casa mia una sorta di ripostiglio e dalla canna del camino ascoltava le nostre chiacchiere altra domanda come si è difeso Carmine risponde balbettando mi hanno detto che tua figlia ha un altro lei non ha nessuno ma tu non sei il suo fidanzato gli ho detto tua figlia è meno mata mi ha risposto l'ho cacciato ma avevo un piano B altra domanda ha continuato a controllarvi? Carmine risponde con una diavoleria elettronica con dei gps delle scatolette nere piazzate sotto la macchina di Vanessa e sotto la mia come hanno scoperto i carabinieri quando finalmente chiamati da mia figlia lo hanno arrestato altra domanda si è sentito protetto dai carabinieri? Carmine risponde il maresciallo un sant'uomo dai il suo cellulare a mia figlia le dice chiamami in ogni momento è notte e giorno se c'è bisogno un padre di famiglia prontissimi sempre tutti i carabinieri ma forse dovevamo fare noi tutti di più anche protestando per le leggi balorde di questo paese per la disattenzione finale altra domanda che cosa non ha funzionato secondo lei? Carmine risponde trovano un pazzo che spia da il camino o con i gps un violento che picchiava la ragazza sempre coperta da fulard e mascherata di fard e che fanno? dopo una notte in caserma il 7 giugno un martedì e una di interrogatorio arriva il giudice e lo manda a casa con gli arresti domiciliari inutili perché tre giorni dopo il sabato era il 13 giugno ce lo ritroviamo tra i piedi ma con un provvedimento altrettanto inutile l'obbligo di non avvicinarsi a mia figlia per 200 metri e questa l'Italia che vogliamo davvero pensano che da 200 metri non si possa fare male? oppure che un pazzo come questo non possa armarsi e sparare da tre metri? se lo consideravano malato dovevano rinchiuderlo in una comunità e curarlo non lasciarlo praticamente libero di fare tutto concordo con Carmine ma procediamo altra domanda da metà giugno le minacce si erano affievolite? risposta di Carmine per due mesi non l'abbiamo più visto ma 15 giorni di pace c'erano stati anche mentre si appollaiava nel sottotetto si sarà placato speravo e forse nelle ultime settimane lo ha sperato anche Vanessa che fino a prima di Ferragosto continuava a vivere da reclosa con il terrore di incrociarlo come è poi accaduto in questa notte che resterà l'incubo anche per i figli dell'assassino ultima domanda aveva figli? Carmine risponde un maschietto di 10 e una bimba di 5 dal primo matrimonio e mia figlia che l'anno scorso li faceva giocare comprando loro regalini quando non aveva capito di avere a che fare con un pazzo ragazzi ho finito di parlare in questo video questo è il triste triste caso di Vanessa Zappalà spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente è un caso anche alquanto recente insomma quindi insomma fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate i giochi che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti